Gli antibiotici non aiutano a guarire dalle infezioni causate da virus, come i comuni raffreddori o l'influenza, ma sono efficaci solo contro le infezioni da batteri, tonsillite, polmonite, otite, ascesso dentale. Prendere antibiotici quando non serve può provocare effetti collaterali e aumentare lo sviluppo di resistenza nei batteri. Fai decidere al medico come e quando prendere gli antibiotici.